Ciao a tutti, allora stasera facciamo qualche esercizio per vedere come possiamo utilizzare uno speed ladder per la parte alta, giusto qualche combinazione, poca roba, voi potete provarla e cercare di fare quello che riuscite magari iniziando con qualche ripetizione, 3-5 ripetizioni, provando a seguire proprio diciamo questo tipo di sequenza qua, quindi iniziamo con poco, poi piano piano aggiungiamo qualche ripetizione oppure dilettiamo un pochino le tempistiche cercando di utilizzare il nostro lavoro di parte alta, quindi principalmente andremo a lavorare con la muscolatura delle spalle, i coli pietorali e con le braccia naturalmente. Ok proviamo, vediamo che cosa viene a fuoco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.